Noi di Didel lo sappiamo, è la disperazione a farvi entrare. Questa settimana, speciale Back to School. Set di merendine già spiaccicate, allevate e disintegrate a mano in Italia a 1,99€. Firma falsa dei genitori per giustificazioni vere a 1,99€. Compiti delle vacanze precompilati o con 50€ infilati per sbaglio nella prima pagina a 1,99€. Cerchi uno zaino sotto i 20€? Zaino sotto i 20€ a 1,999€.